Una canzone che... questa è la seconda volta che presentiamo al pubblico questa canzone l'abbiamo cantata per la prima volta a Mandello Dell'Ario insieme al nostro carissimo Enrico Ruggeri e con l'altrettanto carissimo Fabrizio Palermo che ci accompagnava al piano e questa sera vogliamo salutarvi con questa fantastica Fabrizio Palermo 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 Non c'è il nostro canale, non c'è il nostro canale, non c'è il nostro canale. Non c'è il nostro canale, non c'è il nostro canale. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.